Uno spettacolo, una cornice di pubblico, una tifosoria, come non mai. Purtroppo io non mi so tenere le cose in tasca. Il nostro mister ha fatto le scelte che non condivido. C'erano degli uomini molto in forma, li ha fatto giocare poco. Non ho capito una partita rinunciataria, non la condivido in maniera più assoluta. Lo dico qua, dopo lo dico personalmente. Non è stata la migliore a questa volta. Assolutamente, mi dispiace. Ha fatto tanto bene da noi. Questa ultima partita l'ha giocata malissimo. C'erano degli uomini poco in forma, ha insistito con quelli. Degli uomini che erano molto in forma, che mettevano in difficoltà gli avversari, non li ha fatti giocare. Anche dal punto di vista del temperamento, la squadra non ha reso per quello che... Assolutamente no, assolutamente no. Quindi io, siccome non mi tengo sulla lingua, quando ha fatto bene, lo ho detto. Stasera la partita l'ha interpretata male lui, non la squadra.